Ciao, bambini! Sì, sono io, il piccolo principe. Sì, e oggi ricordiamo le parti del viso. Il viso o faccia? La mia è una bella faccia, vero? Eh sì, è anche quella del mio pianeta e la mia rosa. Ciao, bambini! Oggi ricordiamo, come ben ha detto il piccolo principe, le parti del viso. Viso o faccia. Avete sentito qualche volta che faccia che hai? Sì, perché noi abbiamo una faccia. Con due occhi, che ci servono per guardare un naso. Per annusare il naso ci serve per renderci conto quando la mamma sta facendo la torta. Quando papà fa la pizza. Sì, e certamente abbiamo una bocca. La nostra bocca ci serve per parlare, ci serve per mangiare, ci serve per cantare e ci serve per dare dei baci. E tanti baci e bacetti per voi. Ciao, ciao bambini! Ciao bambini, abbiamo visto le parti della faccia!